ehi ehi vieni qua vieni qua dove sei ma che ci preva che ci preva mattia il laser buongiorno volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che avete mandato a chiara abbiamo fatto la visita sto fumando la sigaretta perché ero atteso come la merda va tutto bene va tutto bene cazzo hi guys so we did another visit today and leo seems to be growing fine the fluids are good heart rate is good everything is good so basically i just have to rest and i'm so happy